I rischi finanziari. Quando parliamo di rischi finanziari intendiamo la normale oscillazione che il valore di un investimento assume intorno alla sua media. Queste oscillazioni si possono tradurre in rappresentazioni statistiche e in modelli probabilistici e ciò rappresenta un grosso aiuto sia per la valutazione a prioristica di un investimento che per il suo controllo nel corso del tempo. Se l'investimento non fosse soggetto a un numero elevato di variabili, ci troveremmo di fronte a una sua crescita lineare e ciò rappresenterebbe una grande semplicità per i risparmiatori, il cui unico onere si ridurrebbe nella semplice scelta di effettuare o meno un accantonamento. Purtroppo sull'investimento gravano una serie continua di eventi di natura finanziaria, economica e politica che spostano il suo valore al di sopra e al di sotto della sua media, agendo sugli atteggiamenti emotivi che provocano reazioni spesso controproducenti sui risparmiatori. Ecco un esempio che mette a confronto un andamento lineare, modello teorico, e un andamento reale di un investimento. I rischi demografici la durata della vita di ciascuno di noi è, ovviamente, imprevedibile a causa di molti fattori. Ciò pone delle problematiche in relazione agli investimenti finanziari, in quanto, se la vita effettiva fosse superiore alle attese di quella media, ci si potrebbe trovare a dover affrontare una mancanza di sufficienti risorse per la nostra sopravvivenza futura. Mentre, nella situazione opposta, una vita effettiva è inferiore a quella media potrebbe creare difficoltà per coloro che dipendono dalla nostra capacità di produrre reddito, maggiore è la distanza con cui la vita effettiva si discosterà dalla media, maggiore sarà l'impatto e le conseguenze per noi o per i nostri familiari. I rischi demografici, anch'essi quantificabili attraverso modelli statistici, ci lasciano comunque la possibilità di una scelta oculata, ossia quella di assumere in proprio tale i rischi o poterli trasferire su un gruppo economico più ampio. Assumere questo rischio significa affidare unicamente a soluzioni di tipo finanziario questi rischi e ciò può essere accettabile qualora i danni derivanti abbiano un impatto contenuto e accettabile sui progetti di investimento. Nel caso contrario, se i rischi a cui ci si espone avessero ripercussioni rilevanti, il trasferimento di essi su una molteplicità più ampia di soggetti sarebbe la giusta strategia in quanto, a fronte di un costo contenuto, si avrebbe il vantaggio di una tutela patrimoniale ampia e altrimenti impossibile da sostenere. È facilmente comprensibile, a tal proposito, la diversa posizione di un investitore senza legami familiari rispetto a uno con famiglia a carico e le diverse responsabilità e rischi che sussistono in capo a una famiglia monoreddito rispetto a quella nella quale più soggetti concorrono alla formazione del reddito. Il presente materiale di marketing è emesso da PICT e Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict.e, o in forma cartacea presso PICT e Asset Management, Europe, S. A. 6 B. Roodoo Fortnieder-Gwenwood, L. 2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni d'investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.pict.e nella sezione Risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICT e Asset Management, Europe, S. A. A. Che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne l'appropriatezza tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione. Finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICT è nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICT e Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICT e Asset Management. PICT non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICT unicamente per finalità illustrative. PICT non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per valutare i marchi commerciali, i diritti o l'autorizzazione per valutare i marchi commerciali. PICT non ha acquisito i diritti o l'autoreizzazione per valutare i marchi commerciali. Grazie a tutti